ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Ben ritrovati con ilcomizio.it dai nuovi studi televisivi di Milano. Oggi parliamo di comunicazione, lo facciamo con un esperto e un protagonista del settore, Marco Garimberti Media Più. Buongiorno. Ben ritrovato e benvenuto nei nostri nuovi studi. Comunicazione vuol dire tante cose, vuol dire quasi tutto oggi, soprattutto. Con te volevo parlare di quella che è la situazione attuale, di quelle che sono le richieste e le esigenze dei vari attori e protagonisti. Certo, siamo in una fase in cui fortunatamente ci sono delle prospettive interessanti per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari. Si segnala a fine 2021 un più 10% in Italia, un più 17% circa a livello mondiale. Quindi è aumentata la richiesta, ma è aumentata anche l'offerta dei mezzi, grazie anche alla Connected TV e al mondo digital. Quindi si è ampliata la panoramica dei media a disposizione, e per questo anche gli investimenti avranno questo trend in positivo importante che non si vedeva da tanti anni ormai. Perché comunque c'è stato un andamento... Certo, molto purtroppo negativo negli ultimi anni, soprattutto ovviamente nel periodo del 2020, inizi 2021, però a questo punto grazie anche, devo dire, agli europei di calcio, manifestazioni quindi di questo tipo e anche alle Olimpiadi che ci saranno quest'anno appunto, gli investimenti stanno prendendo un'impronta importante. A livello mondiale gli investimenti sono determinati molto, diciamo in questo trend positivo, dalle industrie cinesi. Quindi Hisense sta sponsorizzando il campionato europeo di calcio, ma non solo. Quindi in bordo campo, se notiamo, ci sono praticamente quasi solo aziende cinesi, che comunque appunto risollevano un mercato che era in stagnazione. Risollevano o mettono magari in crisi, in difficoltà per quanto riguarda la competizione delle aziende occidentali? Certo, poi quello va di conseguenza. Esattamente, la visibilità, quindi la comunicazione, serve proprio per acquisire quote di mercato. E quindi più spendi, se spendi bene ovviamente, cerchi di recuperare più quote di mercato. E se le aziende cinesi investono molto, probabilmente questo va a scapito di altre aziende europee. Per cui sì, la comunicazione tende proprio a un duplice effetto, quello della notorietà del marchio e dei prodotti, e quindi di conseguenza anche della fidelizzazione, tutta la filiera, insomma, fino alla vendita dei prodotti. Certo, sicuramente è confortante questo dato in crescita per quanto riguarda gli investimenti. Certamente si sente molto, però, dire per quanto riguarda le aziende che hanno subito una naturale crisi in questo periodo, che magari già durava da prima. Tagliamo gli investimenti sulla comunicazione, oppure rinunciamo a degli investimenti sulla comunicazione. Cosa possiamo dire a queste aziende, che certamente hanno le loro ragioni? È sempre stato così, da che io lavoro in pubblicità, uno dei primi tagli che vengono effettuati in momenti di crisi sono quelli relativi alla spesa pubblicitaria, cioè gli investimenti pubblicitari. Molte aziende, però, sebbene in crisi, hanno comunque svolto un'attività di comunicazione sfruttando mezzi, tra virgolette, più economici, soprattutto nell'ambito del digital. Anche lì, però, bisogna saperlo gestire, il digital, perché è un mondo vastissimo. Esatto, che qua c'è da fare. Esatto, che qui c'è da fare un punto anche su questo tema, per cui bisogna sempre avere sott'occhio obiettivi e strategia. Una strategia per perseguire, appunto, gli obiettivi in un mondo vastissimo come quello dell'offerta del digital. Importante, credo, in questo momento che si fa tanto parlare anche di branded content, cioè di raccontare un po' la storia dell'azienda, diventa sempre più importante proprio perché adesso, soprattutto i target di età più giovane, cercano nell'azienda dei valori. Che l'azienda comunichi dei valori, ma li rispetti anche, cioè oltre che a comunicarli, anche rispettarli. Ci sono aziende che producono abbigliamento, che usano materiale riciclato e quindi ne fanno un vanto di questo. Purtroppo si è venuto a sapere che il materiale riciclato non era stato riciclato in maniera corretta e quindi la storia che ha appoggiato la comunicazione di questa azienda adesso li torna contro. Certo, però quello fa parte un po' poi dopo della realtà che si va a portare avanti rispetto a quello che si racconta. Esattamente, quindi la sostenibilità che è il nuovo tema che le aziende devono perseguire, deve essere perseguito proprio anche nei fatti, quindi non solo nella comunicazione ma anche nei fatti. Sicuramente è uno strumento, quello dello storytelling, per raccontare proprio questo, cioè storia, crescita e soprattutto prospettive future di un'azienda nell'ambito della sostenibilità. Quindi questo è un ottimo tema che ha introdotto Fabio perché proprio le aziende possono prendere spunto da questo, cioè raccontarsi. Raccontarsi oggi è fondamentale, raccontarsi nel mondo di oggi con le esigenze attuali. Con le esigenze attuali. Le sensibilità che si stanno imponendo. Certo, certo, certo. I ragazzi più giovani si stanno proprio portando verso questo mondo più sostenibile e a loro dobbiamo comunicare, perché loro sanno i futuri consumatori. Quindi un'azienda che si posiziona bene, che rispetta gli impegni è sicuramente premiata dal pubblico. Bene, io ti ringrazio particolarmente Marco perché è un tema che interessa a noi, interessa a chi ci segue, quello della comunicazione, della pubblicità. Ci riproponiamo di ritrovarci presto a parlare di comunicazione, di introdurre nuovi argomenti, magari entrare nello specifico di quelle che sono le esigenze di comunicazione, e i consigli che possiamo dare a chi intende rivolgersi agli addetti ai lavori. Chiaro, chiaro, chiaro. Grazie molto. Grazie Fabio. Grazie a tutti voi, ci rivediamo presto sul Comizio.it. Il Comizio.it La voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Il Comizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita. Società e professioni. Il Comizio.it La voce di tutti, la tua voce.